Lo staking di criptovalute consente di guadagnare rendite passive e criptovalute con interessi stabili. Per questo motivo genera molto interesse fra gli investitori. Spesso ci chiediamo quali sono le migliori criptovalute da mettere in staking e quali sono le migliori piattaforme per ottenere rendimenti costanti nel tempo. Cerchiamo di fare chiarezza allora in questo video e capire quali sono i metodi più utilizzati per guadagnare criptovalute con lo staking in modo semplice e pratico. Ma prima, sigla! Ciao a tutti e bentornati sul canale di Webeconomia.it. Oggi continuiamo con la nostra serie di video dedicati alle basi delle criptovalute. In questa guida vedremo alcuni dei metodi più utilizzati per guadagnare criptovalute con lo staking. Ci concentreremo quindi in particolare sulle migliori piattaforme per generare rendite passive con lo staking e vedremo quali sono i rischi nell'utilizzare queste piattaforme. Con rendita passiva si intende la possibilità di ottenere un guadagno bloccando le nostre coin in staking per un periodo di tempo prefissato per generare un rendimento costante nel tempo. Vediamo allora come iniziare a guadagnare criptovalute con lo staking, quali sono i siti migliori dove poter mettere a rendita le nostre cripto. In descrizione vi lascio naturalmente tutti i links e riferimenti ai vari siti. Ma partiamo dalle basi. Partiamo col dire che guadagnare criptovalute non significa necessariamente fare soldi con le criptovalute. Queste come sappiamo sono soggette a forte volatilità dunque in valore assoluto è possibile soprattutto nelle fasi ribassiste di mercato che il loro valore totale diminuisca. Lo staking però consente di accumulare rendimenti interessanti e cripto che potrebbero aumentare di valore rapidamente nel medio e lungo termine. Inoltre presenta vari vantaggi. Consente di guadagnare con le criptovalute senza fare trading. Offre delle percentuali di rendimento e PR molto interessanti. A proposito di PR vi lascio qui sopra il link ad un video in cui abbiamo spiegato come funzionano gli interessi. E' adatto anche ai principianti in quanto è di facile comprensione. Fare staking di criptovalute significa semplicemente bloccare le nostre coin al fine di generare dei rendimenti. Ci sono però delle differenze sostanziali tra lo staking puro e learning. In questo video cerchiamo allora di capire cosa significa mettere in staking le criptovalute e quali piattaforme conviene utilizzare per generare delle rendite. Per capire come funziona lo staking dobbiamo fare un passo indietro e parlare di algoritmi di consenso. La blockchain come sapete è un database o registro distribuito su più nodi in rete in cui vengono archiviate semplicemente delle transazioni. A livello logico e semplificando la blockchain prevede vari livelli. Un livello di infrastruttura hardware, un livello di dati, un livello di networking, un livello di consenso che ci riguarda in questo video, un livello applicativo. Come sapete una blockchain ha bisogno di meccanismi di sicurezza che consentano di raggiungere un consenso distribuito per assicurare la validità delle transazioni e che non ci siano problemi. In generale esistono due principali modelli di consenso una proof of work e la proof of stake. Sono due meccanismi completamente diversi anche a livello di consumo energetico. Bitcoin ad esempio usa la proof of work ed è basato come sapete sul mining. Ethereum a settembre è invece passato alla proof of stake su cui si basano altre chain famose come Solana, Polygon, Avalanche e così via. La proof of work si basa sulla potenza computazionale di un computer, schede grafiche e sistemi hardware ASIC miner. In questo caso la sicurezza viene ottenuta tramite il mining ed un ruolo chiave giocato dai miners, cioè quegli attori del sistema che si occupano di risolvere calcoli criptografici per validare le transazioni. Per farlo mettono in gioco una quantità di potenza computazionale detta hash rate e ricevono in cambio una ricompensa in coin determinata dal protocollo. Per ottenerla mettono in gioco una prova della loro potenza di calcolo, la proof of work. Ad esempio in Bitcoin ci sono varie fasi che determinano l'inflazione della coin, ovvero la quantità di token emessi e con l'albing queste si dimezzano ogni 4 anni circa. Lo staking invece trova le sue basi nella proof of stake e nei validatori. Per avere questo requisito, cioè essere validatori, occorre disporre di una certa quantità di criptovaluta da mettere in gioco. I validatori sono dunque persone o no di computer di una rete che emettono in gioco la loro quantità di coin per mettere in sicurezza il protocollo e validare così le transazioni. Quindi devono dimostrare di possedere una certa quantità di token proof of stake. Un validatore ha tutto l'interesse che la rete funzioni nel modo corretto, altrimenti le proprie dotazioni di criptovalute potrebbero arrivare a perdere di valore nel tempo. Tutti possiamo diventare dei validatori, ma anche qui, come nel caso della proof of work, bisogna considerare una potenza computazionale non indifferente, tenere il nodo connesso ad internet per 24 ore al giorno, oltre alle classiche operazioni di manutenzione. Per questo motivo nasce lo staking. Con lo staking possiamo delegare le nostre coin ad un validatore che tratterrà per il servizio delle commissioni. Come possiamo definire dunque lo staking? Lo staking non è altro che un processo che consente di partecipare al consenso distribuito di una rete basata sul consenso proof of stake in modo attivo, mettendo in gioco la propria dotazione di criptovalute o delegandola ad un nodo validatore. Quando utilizziamo il termine attivo intendiamo proprio il fatto di bloccare i nostri fondi nella chain per contribuire alla sicurezza del protocollo. Quando si parla di staking molti sono interessati solo al fatto di poter ottenere rendite passive e generare entrate per poter guadagnare con le criptovalute. Molte piattaforme di exchange centralizzati utilizzano il termine staking in modo improprio e propongono ai propri utenti dei rendimenti in cambio del blocco dei token sulle loro piattaforme. Non sempre questo corrisponde allo staking. Con lo staking intendiamo un processo di impegno dei fondi in modo nativo, cioè questo avviene sulla chain di riferimento. È più corretto per piattaforme come Crypto.com, Binance, parlare di funzioni di earning o guadagno piuttosto che staking. Su queste piattaforme è possibile bloccare fondi e incassare anche rendimenti APY ed APR elevati per un certo periodo di tempo, ma questo non significa fare staking. Lo staking generalmente si può fare sul wallet stesso del protocollo e ha anche dei rendimenti molto più stabili nel tempo. Fare staking quindi significa effettivamente partecipare alla governance e alla sicurezza di una chain. Una delle classiche domande che si fanno tutti è, ma quanto si guadagna facendo staking sulle criptovalute? Naturalmente questo dipende dalla coin in questione e da come evolve il protocollo nel tempo. Per avere un'idea di come evolvono i rendimenti nello staking per le varie blockchain possiamo utilizzare vari strumenti online che andiamo a vedere ora. Il primo sito che ci viene nel soccorso è Staking Rewards che ci mostra tutte le blockchain di tipo Proof of Stake con i vari rendimenti e il totale dei fondi messi in staking. Filtriamo ad esempio sulla voce staking per eliminare i rendimenti delle applicazioni DeFi. Nelle prime posizioni troviamo progetti noti come Ethereum, Solana, Binance Smart Chain, Cardano con le percentuali di staking, metri attuali e la market cap dei singoli progetti. Ethereum come sapete è passato alla Proof of Stake con il merge avvenuto a settembre 2022 e dunque fa parte di questa classifica in quanto è possibile ora fare staking nativo sulla chain. Abbiamo parlato in modo approfondito del merge e del passaggio di Ethereum alla Proof of Stake in un video che vi lascio qui in alto da qualche parte. Ovviamente non c'è Bitcoin in questa classifica perché non è di tipo Proof of Stake, tuttavia se ci fate caso troviamo Bitcoin su molti exchange o servizi come Nexo. In quel caso si tratta di funzioni di earning o di guadagno pure e non di staking nativo ovviamente. Prendiamo per esempio una coin su cui vogliamo fare staking ad esempio Polygon Matic. Come vedete qui abbiamo circa un 5,55% se deleghiamo i nostri fondi a un validatore o il 6% circa come validatore. Abbiamo poi altre informazioni come il lock up cioè il tempo medio dopo il quale possiamo fare la stake che è di circa 21 giorni cioè possiamo richiedere di sbloccare i fondi al validatore e la percentuale di fee media che prende il validatore. Questi dati sono disponibili per tutte le chain ovviamente le percentuali possono cambiare nel tempo anche se sono generalmente più stabili. Un altro sito molto interessante che ci può tornare utile è Token Terminal. Su questo sito è possibile analizzare molte metriche interessanti come le fees, le revenue, il total value locked o le revenue cioè le percentuali di rendimento per i token holder. Ad esempio se andiamo nella sezione revenue possiamo vedere varie statistiche e ordinare anche i dati. Vedete in basso che abbiamo una tabella molto interessante con le percentuali di revenue per i singoli progetti quindi posso ordinare ad esempio le revenue degli ultimi 30 giorni oppure quelle degli ultimi 7 giorni. In questo modo possiamo fare un'analisi più ampia e vedere quali protocolli stanno generando più revenue nell'ultimo periodo e magari decidere dove andare a fare staking. In generale lo staking a nostro modo di vedere va inquadrato in un'ottica più ampia di lungo termine piuttosto che come meccanismo di guadagno. Per i rendimenti a breve termine c'è la DeFi anche se molte applicazioni vengono utilizzate poco a causa del bear market. Con lo staking come vedremo non c'è infatti il rischio di impermanent loss. Se non l'avete ancora fatto potete consultare un video sul canale che abbiamo realizzato qualche tempo fa che spiega cos'è l'impermanent loss e che vi aiuta a capire come funziona. Ve lo lascio qui sopra ed in descrizione. Vediamo allora quali sono le migliori piattaforme per fare staking e guadagnare subito con le criptovalute. Bitpanda è probabilmente uno degli exchange più semplici da utilizzare. Si tratta di un exchange europeo sicuro e affidabile. Abbiamo delle funzioni innovative come ad esempio Bitpanda Crypto Index che rappresenta un indice di criptovalute su cui poter investire, Bitpanda Savings, un piano per costruire il proprio portafoglio di criptovalute in maniera semplice. Per quanto riguarda lo staking con Bitpanda si può guadagnare fino al 18,4% di interesse e PR sulle proprie criptovalute. Ci sono poi ulteriori vantaggi ad esempio nessun periodo di blocco per le criptovalute che possono essere così utilizzate o prelevate in qualsiasi momento, delle ricompense settimanali, lo staking automatico delle ricompense ottenute in modo da far crescere i propri investimenti. Fare staking su Bitpanda è molto semplice. Andiamo sulla schermata principale del nostro wallet e clicchiamo su Start Staking. Come vedete qui abbiamo una serie di cripto su cui possiamo fare staking. Scegliamo ad esempio Polygon perché ce l'abbiamo in portafoglio che dà un 12,26% annualizzato. Vedete in questa schermata che possiamo decidere se fare staking ad esempio del 25%, del 50% o di tutta la dotazione di Matic con incentivo stimato del 12,26% annualizzato. Per continuare con lo staking clicchiamo su Continuo e vedete qui che la prima ricompensa, la otterremo circa il 18 ottobre con un intervallo di pagamenti settimanale. Se vogliamo fare staking di Matic con Bitpanda accettiamo le condizioni e clicchiamo su Stake Now ed il gioco è fatto. In descrizione vi lascio un link che vi consente di registrarvi su Bitpanda ottenendo anche degli sconti. Un altro servizio molto conosciuto per fare staking è Binance che mette a disposizione strumenti molto interessanti per guadagnare crypto attraverso lo staking o meglio learning. Infatti il prodotto si chiama Binance Earn. Per fare staking andiamo sul sito principale di Binance e dal menu guadagna vedete che c'è una voce Binance Earn che apre questa schermata. Come vediamo in questa pagina è possibile bloccare i propri fondi depositandoli per ottenere dei rendimenti nell'arco ad esempio di 90-100 giorni, 120 o in modo flessibile con EPR che sono altissimi su alcune crypto. Ci sono degli APY molto alti come vedete in questo periodo dell'anno per lo staking di Axie Infinity oppure Near Protocol. Vi consiglio di consultare questa pagina perché cambia nel tempo sia nelle percentuali che negli asset su cui poter fare staking. Ci sono veramente tante opportunità di guadagnare su Binance come ad esempio i piani d'accumulo cioè i Binance Savings oppure la possibilità di operare sulla Binance Chain. In questo senso ci sono dei progetti interessanti come Pancake Swap, uno dei principali progetti sulla BNB Chain che permette ad esempio di fare staking sul suo token Cake. Binance offre varie soluzioni di guadagno ed è molto interessante soprattutto per i principianti perché ha una quantità di criptovalute da bloccare veramente molto elevata. Fare staking su Binance è semplicissimo, basta scegliere la coin e cliccare su sottoscrivi scegliendo la quantità di coin da mettere in staking. Qui sotto vi lascio un link per iscrivervi su Binance se ancora non ce l'avete e risparmiare sulle fees. Nexo è una delle piattaforme SFI più famose del panorama delle criptovalute. Offre vari servizi digitali per chi vuole depositare a fare holding oppure chiedere finanziamenti avendo come collaterale proprio le criptovalute. Tra i servizi più apprezzati oltre allo staking la possibilità di chiedere la Nexo Card ovvero una carta di credito molto particolare è infatti la prima e unica per ora carta di credito che permette di spendere denaro senza spendere le proprie cripto e nel wallet. E' quindi una carta con collaterale cripto. Ne abbiamo parlato in un video che vi lascio qui sopra ed in descrizione. Ma vediamo come fare staking su Nexo o meglio earning sulla piattaforma. Come vedete in questa schermata possiamo guadagnare fino a circa il 16% sulle cripto. Ci sono poi moltissimi asset su cui poter guadagnare rendite passive. C'è anche Bitcoin a testimoniare il fatto che si tratta di funzioni di earning e non di staking. Bitcoin infatti non è un asset proof of stake. Ad ogni modo Nexo riconosce delle percentuali molto interessanti su moltissime criptovalute. Abbiamo dei rendimenti base come vedete che possono aumentare a seconda del livello di fedeltà. Cliccando sulla i vedete che ci sono vari livelli come Silver, Base, Gold e Platino ma a seconda della percentuale di token Nexo che si detengono. Il token Nexo è il token della piattaforma Nexo. Questa piattaforma è stata una delle poche a resistere al bear market a differenza di altri concorrenti come Celsius che sono fallite. Questo ci deve far aprire gli occhi anche sul fatto che lo staking non esente da rischi ma ne parleremo tra poco. Nexo comunque è una piattaforma sottoposta ad audit esterno e questo ci dà molte informazioni in più sulla sicurezza. Fare staking su Nexo è facilissimo. Dalla schermata principale scegliamo la coin su cui vogliamo guadagnare ad esempio Polygon Matic e clicchiamo sul link earning che ci porta direttamente alla pagina dello staking. Si aprirà questa finestra e come vedete dato che siamo nel livello base potremo guadagnare circa il 10% sullo staking di Matic. Accumulando token Nexo sulla piattaforma potremo aumentare questo EPR fino al 16%. Cliccando su Earn Interest si apre questa schermata in cui possiamo creare il nostro piano per mettere in staking Matic. Come vedete tutto molto semplice. Anche in questo caso vi lascio in descrizione il link per iscrivervi a Nexo nel caso in cui non avete un account. Crypto.com è un'altra piattaforma completa che consente di investire in criptovalute e fare staking. Offre numerosi servizi come ad esempio il trading, un exchange decentralizzato su cui negoziare, un'app mobile facile da usare, carte Visa con cashback, oltre alle possibilità di operare in DeFi sulla Cronos Chain. La funzione di staking di Crypto.com è nella sezione Earn dell'app di Crypto.com. Come vedete qui sotto ci sono numerose criptovalute su cui è possibile depositare con vari orizzonti temporali. Come vedete in questa schermata c'è una rapida applicazione per calcolare le proprie rewards e vedete qui ci sono tantissimi token su cui fare staking. Con un piano di staking che può avere vari orizzonti temporali vedete qui abbiamo tre mesi, un mese o il piano flessibile che darà una certa percentuale di interessi sicuramente più ridotta del piano di tre mesi. Qui sotto potete vedere le percentuali che variano anche al fatto se si possiede una carta di Crypto.com o meno e a livello Tire. In base ai CRO che si detengono è infatti possibile ottenere sia carte Visa con condizioni diverse sia percentuali di staking diverse. Come vedete qui abbiamo Tire1, Tire2 e Tire3 che sono i tre livelli di account di Crypto.com che poi daranno luogo anche a delle percentuali di staking differenti. Vediamo allora come mettere in staking su Crypto.com dall'app mobile andiamo nella sezione Crypto Earn. Clicchiamo sul pulsante più e selezioniamo la coin da mettere in staking ad esempio Kronos. Approviamo tutte le clausole e scegliamo il piano di staking ad esempio quello di tre mesi e vedete che per il Tire1 abbiamo una percentuale di circa il 6% di EPR su Kronos. Se vogliamo fare staking di CRO dovremo trasferire la percentuale di CRO che vogliamo mettere in staking dal nostro wallet alla sezione Earn in modo da iniziare a maturare gli interessi. Potete iscrivervi gratis su Crypto.com dal link che vi lascio qui sotto in descrizione e risparmiare sulle fees. Vediamo ora come fare staking dal proprio wallet che è poi uno dei metodi più semplici. Abbiamo visto alcune piattaforme per poterlo guadagnare crypto con le funzioni di staking e di earning. In realtà è possibile utilizzare i wallet stessi dei protocolli per fare staking. Prendiamo ad esempio il wallet di Cosmos ovvero Kepler. Come vedete in questa schermata abbiamo varie blockchain su cui fare staking nativo. Abbiamo il Cosmos Hub che ci consentirà di mettere in staking Atom, Osmosis per Osmo, Secret Network, Regen, Stargaze, EVMOS, insomma tutto il network di Cosmos Hub. Supponiamo di voler fare staking a questo punto di Atom. Clicco sulla chain che è Cosmos Hub e vedete qui che ci sono l'elenco dei validatori tra cui scegliere. Supponiamo di scegliere Coinbase Custody. Clicchiamo su Manage. Si aprirà questa schermata che vedete qui sotto. Come vedete abbiamo un APR per lo staking del 15,72% e una commissione del 20%. Clicchiamo su Delegate. Scelgo gli Atom da depositare ad esempio il massimo che ho disponibile sul wallet e clicchiamo Delegate per confermare l'operazione. In questo modo avremo fatto staking nativo sulla chain di Cosmos e avremo un APR del 15,20% annuale. Ricordiamo poi che c'è un tempo di 21 giorni di attesa se vogliamo sbloccare i fondi. Questa è una modalità di staking nativo molto interessante che di fatto blocca i nostri fondi e non ci consente di usarli. Molte chains stanno introducendo la possibilità di usare comunque i fondi dello staking senza bloccarli. Questa funzionalità si chiama Liquid Staking e consente di ottenere un derivato liquido da utilizzare in DeFi. Se conoscete Lido Finance sicuramente saprete di cosa sto parlando. Ad esempio vincolando Atom avremo un token equivalente che potremo utilizzare sulla chain di Cosmos. Il Liquid Staking in particolare per Cosmos ancora non è attivo ma verrà introdotto nella versione di Atom 2.0 presentata durante la conferenza Cosmoverse di qualche settimana fa. Ovviamente abbiamo usato Kepler per il blockchain di Cosmos ma possiamo utilizzare ad esempio Phantom per Solana, Metamask e tutti gli altri wallet che ci consentono di fare staking nativo. Molto spesso molti ci scrivono affermando che il guadagno derivante dello staking è basso o comunque non vale la pena mettere in gioco le proprie coin per guadagnare poco. Non c'è niente di più sbagliato in questa affermazione che non tiene conto di alcuni aspetti fondamentali. Numero uno lo staking è un processo che porta a incassare rendimenti nel lungo termine. Numero due il guadagno in senso assoluto non esiste, non deve essere misurato in dollari ma bisogna usare la coin stessa come parametro e unità di misura. Numero tre lo staking deve tenere conto anche dell'inflazione del protocollo cioè dalla quantità di token emessa da quel progetto. Come detto lo staking consente praticamente di guadagnare crypto gratis mettendo in gioco i propri fondi. Non si deve però commettere l'errore di fare subito la conversione in dollari dei rendimenti perché dobbiamo anche contestualizzare la situazione al momento storico in cui viviamo. Come sapete siamo in una fase di mercato ribassista e in una fase di crisi per tutti i mercati finanziari. Va giù tutto praticamente l'azionario, gli indici e anche le criptovalute che sono considerate attualmente un asset risk on. In una fase di mercato ribassista se guadagniamo 100 token dallo staking e la coin perde valore questo quantitativo potrebbe valere poco se convertito in dollari. Nel lungo termine però il valore della criptovaluta potrebbe apprezzarsi e dunque aumentare di valore. Inoltre bisogna tenere conto dell'inflazione del protocollo cioè dell'emissione. Fare staking di una coin molto inflattiva può infatti vanificare tutto il processo di staking. Ci sono token ad esempio di piattaforme DeFi che vengono offerte come ricompense per finanziare i liquidity pool. Questi token possono essere messi in staking ma l'inflazione è spesso altissima e dunque finisce per far perdere valore stesso intrinseco al token sia allo staking. In questi casi lo staking può convenire per periodi di tempo molto brevi. Se pensiamo nel lungo termine dobbiamo capire quale criptovaluta effettivamente vogliamo detenere in portafoglio e sfruttare l'effetto dell'interesse composto negli anni per ottenere un rendimento elevato. Fate attenzione dunque a questi aspetti nel valutare se vi conviene fare staking. Staking però presenta anche dei rischi che è bene conoscere. Non è solo fatto di guadagni e rendite passive. I rischi derivanti dallo staking sono sostanzialmente i seguenti. Un rischio di volatilità, depositando una coin staking si crede fortemente in quell'asset e dunque ci si espone al rischio di volatilità. Come sappiamo il prezzo di una criptovaluta può crollare e dunque portare la nostra dotazione in staking a diminuire di valore nel tempo. Un rischio della piattaforma di earning. Abbiamo visto che mettendo a rendita le nostre cripto le stiamo affidando ad una piattaforma che può essere attaccata da hacker, fallire dal punto di vista economico oppure avere dei malfunzionamenti o bug. I rischi legati al validatore. Se scegliamo un validatore a cui deleghiamo i nostri fondi dobbiamo fare attenzione alle commissioni applicate, alle condizioni ed eventuali tempi per lo sblocco. C'è da dire che un validatore che si comporta male subisce lo slashing ovvero può perdere parte dei suoi fondi in staking dunque i validatori hanno tutto l'interesse nel far andare bene le cose. Lo slashing applicato in percentuale al validatore colpisce anche chi delega i fondi quindi fate attenzione. Bisogna conoscere bene questi rischi e fare attenzione alle piattaforme su cui mettiamo a rendita nelle nostre coin. Ricordiamo i casi di Anchor Protocol, il protocollo DeFi di Terraluna poi fallito e di Celsius, una piattaforma di lending anche lei fallita, che hanno causato perdite ingenti agli holder. In generale le piattaforme DeFi espongono a dei rischi. Nello staking tuttavia questi sono più contenuti e non c'è il rischio di impermanent loss come avviene sui DEX o altre applicazioni di finanza decentralizzata. Se facciamo staking di una cripto vogliamo investire a lungo termine e avere proprio quella cripto in portafoglio in quanto abbiamo una forte convinzione su di essa. Non è solo dunque un modo per guadagnare. Bene siamo arrivati alla fine di questo video abbiamo visto che cos'è lo staking e quali sono le migliori piattaforme per mettere a rendita le criptovalute. Per iniziare è fondamentale studiare i vari progetti e decidere qual è l'opzione migliore per guadagnare interessi e fare staking. Bisogna analizzare i fondamentali dei progetti, le varie piattaforme facendo attenzione anche ai rischi per la sicurezza. Quanto si guadagna con lo staking? Dipende ovviamente dalla criptovaluta che si vuole mettere in stake ed altre informazioni come l'inflazione del token e il possibile sviluppo del protocollo. Prima di fare staking è necessario costruire un portafoglio cripto. Se volete investire in criptovalute potete utilizzare alcune piattaforme che vi lascio qui sotto in descrizione per accumulare e passare successivamente alla fase di staking vera e propria. In descrizione vi lascio naturalmente tutti i riferimenti ai vari links dei vari exchange per comprare criptovalute e ai vari approfondimenti. Naturalmente vi invitiamo a iscrivervi al canale per supportarci, a mettere mi piace e attivare le notifiche per rimanere aggiornati con i nostri contenuti e a lasciarci i vostri commenti. Io vi ringrazio per l'attenzione come sempre, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.